In una commedia brillante con tocchi di autentico humor, ritroviamo un affascinante Victor Camara. Non trovo la mia penna né quello che devo firmare. È stato un piccolo problema a casa sua. Sei stupendo, Cici? Sì, certo. L'evoluzione di un sentimento e una meravigliosa trasformazione. Amanda Gutierrez. Oh, ma guarda te, Ines, non è niente male. Tu non sai quanto mi piaci. Ti desidero. Ines, una segretaria da amare.